Aos 2023 continua. Ci troviamo allo stand di Caffè Moreno, la torrefazione napoletana che ormai da sessant'anni allieta i nostri momenti con le miscele più buone sul mercato e siamo in compagnia di Vittoria per Cuoco, la responsabile comunicazione e marketing per l'azienda. Vittoria è un gran piacere ritrovarti ai microfoni di Oreca TV. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, anche per me è un vero piacere ritrovarci qui per questa manifestazione così importante come host che per noi è sempre simbolo di tanta soddisfazione per far sì che possiamo sempre mostrare e presentare le nostre novità e il nostro brand ormai che conoscete che cerca di portare sempre la tradizione del nostro vero espresso napoletano sia in Italia che in tutto il mondo. Tutti voi sapete che Caffè Moreno insieme a tanti altri torrefattori napolitani sono tra gli ambasciatori del Buon Caffè Espresso Napoletano. Voi nello specifico siete andati a arricchire le vostre miscele approfondendo alcune nicchie. Quali sono? Sì, da circa un anno siamo entrati a far parte del consorzio CSC ovvero Caffè Speciali Certificati per un consorzio che racchiude i torrefattori principali che vogliono dedicare un'attenzione maggiore a quella che è la linea Speciali di Caffè tracciati di filiera quindi con una qualità superiore a un caffè più o meno convenzionale e questo ci ha permesso di avere una maggiore rilevanza con quelle miscele che oggi diciamo prendono una bella nicchia di mercato. Noi con questa associazione abbiamo deciso di fare una miscela 100 per cento arabica con origini che sono Brasile e Colombia proprio per differenziare dalle altre nostre miscele tradizionali con un gusto ovviamente molto particolare ma che oggi diciamo cresce sempre di più come linea Speciali. Tra le vostre miscele oltre a quelle Speciali di cui hai appena parlato ci sono poi le tradizionali il 100 per cento arabica il misto 70 30 con la robusta e così via ma qual è la tua preferita? La mia preferita è quella che noi presentiamo ogni anno che la presentata nel barattolo da tre chili che la nostra best quality è una miscela 80 per cento arabica di 20 robusta che oggi è il nostro diciamo cavallo di battaglia il caffè per cui vengono a trovarci in fiera e che cerchiamo soprattutto poi di esportare di far conoscere al pubblico soprattutto estero. Perfetto e allora Vittoria ricordiamo a tutti loro qual è l'indirizzo email a cui poter scrivere per richiedere maggiori informazioni o la visita di un vostro agente di vendita e chissà diventare vostri clienti. Certo allora per qualsiasi informazione potete contattare info chiocciolacaffemoreno.it dove poi vi indirizzeranno ai vari uffici per qualsiasi esigenza. Bene è il momento dunque di provare la miscela caffè moreno 80 arabica 20 robusta che è il vostro cavallo di battaglia ci vediamo tra pochissimo con altra intervista e documentarvi dunque le novità presentate qui a OST 2023. Grazie Vittoria. Grazie Fabio alla prossima.